Ricco menù certificato vegan ok. Oggi la nostra super inviata Renata Balducci, Presidente Associazione Vegani Italiani Ollus, ci porta a Giove in provincia di Terni. Andiamo a conoscere il ristorante Da Piero. Ciao Francesca, oggi ci troviamo in Umbria, questa volta siamo a casa e ci troviamo a Giove, qui nel paese dove io vivo attualmente. Siamo nel ristorante Da Piero e sono in compagnia di uno dei titolari, Massimo Trecastagni. Ciao Massimo, grazie di essere qua con noi. Qual è la caratteristica del tuo locale? Sono certificato vegan ok da due anni, potete mangiare degli antipasti, degli ottimi primi, contorni, dolci, vegani e quindi puoi venire tranquillamente a mangiare senza problemi. C'è veramente una varietà, numerosissimi primi. Sì, ce ne sono diversi, che poi non sono tutti qui ma ce ne sono anche extra, oltre quelli che sono qui. Ogni tanto inventiamo qualcosa. Ogni tanto c'è qualche novità. Avendo un menù come questo organizzerai anche delle serate particolari, che ne so, mi viene in mente l'ultimo dell'anno. Noi organizziamo il cenone di Capodanno, facciamo sia il menù vegano, e funziona che prenotano, e anche quello normale ovviamente, però visto che funziona anche quello vegano, perché ci sono diverse richieste insomma. E poi organizziamo delle serate anche a tema con menù vegani. Hai mai mangiato vegano? Capita e mi piacciono anche, oltre al fatto che li facciamo noi, insomma, possono anche buoni. Ho notato, venendo qui a volte, che circolano i cani. Cioè qui si può venire? Come no, senza problemi. Ficciamo entrare tutti, sì sì, cani, gatti. Quindi ci siamo sempre anche noi, eh. Tranquillamente, senza problemi. Francesca, puoi venire anche tu, senza problemi. Alla grande. Ringraziamo Massimo, Francesca, e invitiamo tutti quelli che ancora non hanno provato a venire qui a mangiare. Locale certificato a vegano ok, a Giove, ristorante da Piero. Francesca, che dire, a questo punto noi ti salutiamo con il nostro fatidico Go Vegan!